A causa dell'emergenza sanitaria, quello del 2020, sarà sicuramente un Natale anomalo. Abbiamo chiesto ai cittadini come si stanno preparando per queste festività e come le trascorreranno. A prescindere il fatto che qua non si può prevedere niente, è difficile, è un Natale che manca ancora due mesi quasi. Io penso che ci sarà un buon Natale. Le famiglie devono riunirsi per Natale, se no già siamo massacrati lo stesso da altri problemi. E dopo io penso che, non so, in una settimana di Natale possiamo compromettere la situazione. Ecco, chiaro, il protocollo è protocollo, ecco, lo bisogna rispettarlo. Mi aspetto solo di riuscire a venire a lavorare, è la nostra speranza, perché già se riusciamo a venire a lavorare per noi è già una grande cosa. Siamo a meno del 50%, però comunque ci accontentiamo, piuttosto che niente, piuttosto. È l'unica speranza che abbiamo quest'anno per il Natale, purtroppo siamo messi così quest'anno. Programmare è un po' difficile, perché quando programmi, il giorno dopo mori, cambiano tutto e cosa fai? Lo trascorrerò a casa il giorno di Natale sicuramente. Passerò anche tutte le domeniche del periodo pre-natalizio a casa, che solitamente io ho sempre lavorato, da metà novembre fino a fine dicembre, diciamo. Perché le fiere sono state tutte sospese, quindi resteremo un po' più a casa con la famiglia. Con il Covid è anche un po' insicura andare con i propri amici in giro durante Natale. E anche perché non si sa se ci saranno delle misure più restritte. Io spero veramente che non ci siano, perché comunque voglio stare anche con mia nonna un po' per farle compagnia e tutti i miei parenti comunque. A intervenire sul tema Natale, in particolare quello relativo ai tradizionali mercatini in città, anche l'assessore alle attività produttive, Nicolò Zavarise. Purtroppo la situazione anche lì si è rivelata veramente critica, non tanto per una non volontà di fare i mercatini di Natale, quanto per l'impossibilità di mettere in moto in così poco tempo una macchina organizzativa davvero complessa e soprattutto garantire la sostenibilità economica di un comparto che è sicuramente particolare. Noi comunque abbiamo come amministrazione, insieme anche alle categorie, predisposto a un eventuale piano B. È chiaro che con queste ordinanze che continuano a susseguirsi diventa purtroppo sempre più difficile arrivare a realizzare anche qualcosa di alternativo, perché chiaramente mancano le tempistiche.